Pioli is on fire, pioli is on fire, ma che derby, prima di tutto ci tengo a dire ma che derby è stato oggi Il derby della madonnina, che derby è stato, un derby infuocato, indiavolato, veramente una roba assurda Prima di analizzare i singoli voglio fare i complimenti a entrambi le squadre perché è stato veramente un derby bellissimo Da sportivo sono veramente contento di aver visto un derby della madonnina veramente bello Noi i classici 0-0, 1-1, ma veramente un derby di fuoco che fino all'ultimo non si sapeva che risultato sarebbe andato a finire Per un tratto di strada sembrava che il Milan vincesse ma poi l'aria aperta l'Inter, emozioni a non finire, emozioni a non finire E poi ragazzi, ma che giocatore è Rafa Leao? Io poi sono pure un fanboy di Leao, ci ho avuto l'anno scorso al Fanta Ma che giocatore è Leao? Cioè, ditemi qua sotto, che giocatore è Leao? Date un aggettivo Superlativo, superlativo, fantasmagorico, stellare Cioè, regà, veramente è un fenomeno, altro che 120 milioni del Chelsea Questo, questo non è stato, arriva pure a 150, 160 se continua così Veramente, poi pure Giroud decisivo come sempre E Pioli batte come sempre, batte Inzaghi Sempre, Pioli batte Inzaghi, come sempre E Milano, ovviamente, è rossoniera Ciao ragazzi, bentornati in questo video, qui a Giabez, oggi siamo in un nuovo video Siamo appunto qui a Giabez, commenta per commentare il post partita del derby della Madonnina Milan, Inter, 3-2 se lo porta a casa il Milan Con una vittoria roboante per 3-2 Veramente, derby pazzesco Non finire, emozioni a non finire Prima di tutto ciò, vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare questo video Un commento, gli diamo alla vostra se avete visto la partita Se siete nuovi, iscrivetevi al canale Attivate la campagna notifiche per rimanere sempre aggiornati E vi ricordo di seguirmi sui social, Instagram, per trovare la mia tiktok Tutti quanti i link li trovate qua sotto in descrizione Recuperate il post partita della Juve, lo trovate qua sopra nelle schede Recuperate i video Allora, partita pazzesca, ok Però voglio analizzare i singoli Prestazioni superlative tutti quanti in primis Leao che è proprio quello Però passa in vantaggio l'Inter Perché nei primi 20 minuti, nel primo quarto d'ora Il Milan leggermente in sottotono Meglio l'Inter il primo quarto d'ora della partita E appunto passa in vantaggio Con un'azione Con una bella azione l'Inter Gol di Marcelo Brozovic Che nei derby segna spesso Palla di 1-2 tra Se non sbaglio Correa Correa Ciaranoglu apre per Correa Correa di tacco la spizza per No, Ciaranoglu di tacco per Correa Correa che la Vede l'inserimento di Brozovic E si inserisce a Marcelo Brozovic 1-0 Milan 1-0 Inter Gol dell'1-0 assist di Correa Poi ragazzi dopo solamente 7 minuti Il Milan la pareggia con Rafa Leao Che fa un gol pazzesco Bella l'azione non vi dico regà Uno spettacolo puro La palla di Tonali Che gliel'ha data proprio al bacio L'ha lasciato scorrere proprio al bacio Tonali Eh sì Tonali Leao con il sinistro Con il destro Non mi ricordo Comunque a giro il pallone Sul secondo palo Dove Andanovic ovviamente Non ci può arrivare Veramente un tiro imprendibile Gol dell'1-1 E poi ragazzi da lì Il Milan Il Milan macina l'Inter Il Milan macina l'Inter Dall'1-1 in poi C'è stato uno stradominio del Milan Fino Fino a mezz'ora Prima della Fino a 25 Barra 30 minuti Fino a Fino a 30 minuti Prima della partita C'è stato stradominio Milan Per tipo Un tempo intero Praticamente Dal Dal 28esimo Fino al 60esimo Dominio Milan Poi è arrivato praticamente Il Milan Che ha anche opportunità Di prolungare subito Già nel primo tempo Di portarsi sul 2-1 Ma non ci riesce Perché ci sono stati Diversi interventi Miracolosi Di Andanovic Nel primo tempo Posso dire una cosa Difesa dell'Inter Scandalosa Bastone inguardabile Cioè penso Che è stato il peggiore in campo Cioè veramente Un bastone inguardabile In guarda Pure Danfris Male 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 Sul classato pure Danfris Da Leao Veramente Che si faceva Avanti in giro Tutta la fascia E poi ragazzi Arriva il secondo tempo Arriva il gol Del 2-1 Giroud Su assist Di Leao Perché Leao Oltre fa un gol Fa un assist E poi fa un altro gol Due gol E un assist Assist di Leao Perfetto Per Giroud Io me lo sentivo Che Giroud Segnava il derby Mi volevo andare a giocare Non so perché Non me lo so giocato Però mi sentivo Che Giroud Segnava il derby Così è stato Su assist di Leao Balla perfetta Al bacio Giroud Non sbaglia Lì da sottoporta Non sbaglia Dopo aver fatto Una prestazione Orrenda Contro il Sassuolo Fa un grande derby E poi ragazzi Poi arriva Arriva il gol Del raddoppio Di Leao Cioè nel senso Un altro gol Di Leao È una roba assurda Su assist di Giroud Roba pazzesca Quindi Giroud Goal e assist Leao due gol in assist Veramente pazzesca E poi Si porta sul risultato Di 3 a 2 Palla Pure questo bel gol Anche il gol Del 3 a 1 Bellissimo Pure questo E al sessantesimo Leao porta quindi Il gol Il Milan Sul 3 a 1 Poi ragazzi C'è stato Non so L'Inter che ci ha provato C'è stato qualche miracolo Di magnano Inizialmente A un certo punto L'Inter Non so Accende la luce Al sessantesimo Verso il sessantesimo Entra Dzeko E appunto Decisivo Nell'ultima mezz'ora Di partita Mkhitaryan e Dzeko Hanno creato il panico Nell'ultima mezz'ora Di partita Al sessantesimo Entra Dzeko E segna Il gol Del 3 a 2 Da lì in poi Il Milan Che sta solamente Un gol di scarto Incomincia all'Inter A fare un assedio Nella difesa del Milan In cui magnano Io penso Io penso Le parate che ho visto oggi Non le ho mai viste In una partita di calcio Io in una partita di calcio Non ho mai visto Così tante parate Magnano Penso sia Secondo me Il portiere Uno dei portieri più forti Della Serie A Della storia della Serie A Veramente Una roba assurda Miracoli a destra A sinistra Forse pure più forte d'Europa Cioè a livelli suoi Non so Che ci posso mettere Un Courtois Però forse Diventa pure più forte Insomma Ma quanti Quanti miracoli ha fatto Cioè un gatto Un gatto Primo palo Poi se gira Il tiro sul secondo palo Non si sa come La prende Sotto l'incrocio Tiro da fuori Era a giro Sotto il set La va e prende Cioè veramente Ma che partita Diventa Milano Diventa Rosso nera Quindi Fatemi sapere la vostra Da qui sotto Con un commento Lasciate un mi piace Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi come al solito Ci vediamo un prossimo video Bene ragazzi Sempre e comunque Forza il calcio E mamma mia Che derby Leao strepitoso Strepitoso Ciao ragazzi Bella VAMOS